buongiorno buongiorno a tutti allora questa mattina andiamo a spiegare il concetto che ho analizzato ieri di ordine pendente e ordine fatto con evidence quali sono le differenze andiamo a vedere stamattina insieme e cerchiamo di spiegarle nel più breve tempo possibile cercando di sintetizzare tutti i concetti nel caso mi dovessi dimenticare qualche concetto fondamentale spero che i trader pro capiscano che questo è un argomento per neofiti cerco di analizzarlo nella maniera più semplice possibile andiamo subito a grafico ordine pendente ordine di evidence allora cosa fa l'ordine pendente rispetto all'evidence come vedete qui dal grafico si può notare che il pendente aspetta un preciso livello di prezzo anche senza avere segnali vediamo a grafico il movimento di prezzo e andiamo a analizzare con la zona 75 per cento un ingresso la zona 75 per cento di ingresso corrisponderebbe a 24.615 faccio ovviamente ipotesi noi andremo a piazzare l'ordine d'ingresso il nostro stop loss il nostro target e andremo a piazzare il nostro target finale al 25 per cento in più della posizione questo concetto poi lo spiegherò cercherò di spiegarlo in maniera ancora più dettagliata cosa bisogna fare una volta fatto l'ingresso bisogna scaricare il 50 per cento della size al raggiungimento del target 1 portare lo stop loss a breakeven si riduce il rischio si porta il trade ad avere un risk free e poi andare a prenderci il target 2 al 25 per cento in più dell'impulso cosa invece fa un trader che lavora con evidence aspetta un segnale non aspetta il 75 per cento stop punto aspetta il 75 per cento e aspetta un segnale per poi in questo caso entrare short facendo il 75 per cento della proiezione anche in nel caso di del trader ad evidence noteremmo che su questo impulso che andremo a prendere come impulso di riferimento andremo a vedere che il trader ad evidence entrerebbe a una posizione di 25.180 quindi è diversa rispetto al trader che lavora con il pendente esistono ovviamente pro e contro dov'è il discorso per il pendente il discorso del pendente è che se voi avete delle candele piene fino a questo livello e poi avete una candela che fa semplicemente una shadow e poi il prezzo viene riassorbito l'ordine pendente entra a mercato e quindi magari vi è andato a prendere un trade l'ordine ad evidence non sarebbe entrato perché voi qui non avreste aspettato il livello di prezzo ma avreste aspettato una zona di evidence quindi un segnale ovviamente quali sono gli aspetti diversi in questi due tipi di trade il trader con il pendente sarebbe entrato il trader ad evidence no vi faccio semplicemente un esempio di quello che è successo qualche giorno fa su bitcoin il trader che avesse lavorato ad evidence ovviamente qui non avrebbe visto segnali long invece il trader che avesse preso una posizione con un ordine pendente perché nella sua strategia 34.500 sarebbe entrato ok avrebbe preso l'ordine stop loss fisso e i target magari avrebbe raggiunto questo tipo di target cosa che invece il trader a evidence non avrebbe fatto perché perché qui non c'è stato nessun segnale di ipotetica ed ipotetico entry in realtà uno di pattern ce ne sarebbe anche stato ci sarebbe stato in questa zona qui abbiamo avuto il breakout e abbiamo avuto il ritest probabilmente nella zona dello 0.75 quindi vediamo se corrisponde quasi perché ovviamente non ha toccato lo 0.75 ma per farvi capire quanto un trader ad evidence sarebbe entrato diversamente in questa zona qui quindi stop loss vedete che sembra che ci sia pochissima differenza ma in realtà ce n'è tantissima perché perché se noi andiamo a fare una proiezione di questo che è successo sul grafico di qualche giorno fa vediamo questo impulso il trader ad evidence avrebbe aspettato ritracciamento in questa zona scusate il trader a pendente sarebbe entrato con una posizione short a questo livello con target del genere stop loss sopra il precedente minimo e questo sarebbe stato stoppato fuori quasi subito invece il trader ad evidence probabilmente ancora non è entrato a mercato quindi il trader ad evidence ha visto questo su una zona di supply ha visto un ipotetico in un ipotetica inversione e cosa abbiamo abbiamo una zona short al breakout magari di questo livello con stop loss qua sopra e sempre target lo stesso vedete che anche se il rapporto rischio rendimento potrebbe essere uguale un trader ha preso già lo stop loss invece il trader ad evidence no il trader che lavora con zone di evidence no ho detto tutto il video spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un like noi andremo ad approfondire giorno dopo giorno questi argomenti io vi ringrazio vi auguro una buona giornata a presto ciao ciao a tutti